Per settimana sport siamo con Andrea Baccicalupo e Paolo Scanapieco dell'Igorna. Allora cominciamo dal malato, almeno oggi malato immaginario. Allora ciao Paolo, ho visto la partita che hai fatto, non mi sembravi che tu avesse oggi la febbre. Hai in difesa ribattuto colpo su colpo, ho visto anche all'inizio che hai avuto uno scontro con Matteo Cericola, tuo amico, vi siete detti qualche cosa? Se mi puoi dire cosa vi siete detti e se mi fai un commento sulla partita. No, diciamo che forse non ho sentito la febbre per tutti i medicinali che avevo in corpo, però dai ci tenevamo tanto a vincere questa partita, era molto importante per noi, ce l'abbiamo fatta. Il secondo tempo siamo entrati da squadra vera e abbiamo gestito poi gli ultimi 15 minuti di nuovo da squadra matura. Con Matteo è un grande amico per me, non ci siamo detti niente, abbiamo un po' scherzato in campo, gli ho fatto qualche falletto, almeno lui non ci ha fatto gol, dai siamo contenti. Andrea, un bel assist per Tassotti che ha fatto un bel gol, mi sembra che tu abbia ricevuto la palla su calcio d'angolo da Tussellino e poi l'hai buttata nel mezzo e Tassotti ha fatto gol, ho visto bene. Sì, la zona per me non era quella, è stato molto bravo lui a seguire l'azione e bravo io a metterla. Lavoriamo tanto in settimane e quindi questo è il frutto del lavoro. Direi adesso una partita importante con il Borgossesia e poi a Milano con l'Alcione. Dai, vediamo di fare 6 punti? Assolutamente. Ok, grazie, ciao ragazzi. Ciao Paolo, grazie.